Sara Bartoli, 30 anni, atleta toscana di OCR, molto conosciuta e morta dopo essere stata travolta da un'auto che l'ha investita frontalmente mentre correva. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri intorno alle 19.30. L'atleta stava facendo allenamento sulla via Grevigiana, strada provinciale 92 percorrendo la strada da San Casciano verso Mercatale, di cui era originaria e dove viveva. È stata investita all'altezza del tondo alle corti, alla guida dell'auto un 38enne della zona che ha travolto Sara frontalmente. Vani sono stati tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, a corso sul posto insieme ai carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso. La ragazza era molto conosciuta in zona, sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, in segno di rispetto per il dolore della famiglia, annullato l'evento per l'anniversario della liberazione del paese di ieri sera. Tanti messaggi di cordoglio lasciati sui social media per lei. Grazie.